Il primo capitello dei pilastri fu scolpito nel 1393 su disegno di Giovannino de Grassi o anfiteatro Flavio, la cui costruzione fu iniziata dall'imperatore Vespasiano. Ci sono domande? Dimmi. Sì, quello dei cessi. La prima collocazione fu all'interno del giardino del palazzo Aiutami Cristo. Ma veramente aiutami, che palle. Non so voi, ma io in giro ci vado per sentirmi raccontare delle storie. Se trovi qualcuno che ti racconta la storia giusta, dentro quella storia ci trovi tutto quello che ti serve per capire quella terra. Gente tenace in Lombardia. E cioè, basta che guardi la storia di Walter Bonatti. Ti devo raccontare quando a Livorno un gruppetto di ragazzi hanno fregato tutto il mondo dell'arte. Magari ci fermiamo a Napoli e andiamo a prenderci un bel caffè pagato. Non sai cos'è? Te lo racconto io. Te lo racconto. Te lo spiego. Ti faccio sbirciare. Ti posso raccontare una storia che non ti puoi proprio perdere. Ok, facciamo così. Scelgo libri, piatti, strade, facce. Parlo con la gente. Per ogni città, per ogni terra, ti racconto la storia più bella che c'è. Non è forse questo il viaggio? Sentirsi raccontare una storia che non avresti mai pensato possibile. Prima di avere un'altra storia. Grazie.